Buon lavoro a tutti! La prima parola della settimana è merito. L'esempio da chi arriva? Arriva da Piero Pittaro, imprenditore friulano che purtroppo è scomparso lo scorso marzo. L'imprenditore ha lasciato un testamento scrivendo lascio tutto ai miei nove dipendenti che mi hanno aiutato ad esportare il nome dell'azienda e i suoi prodotti dagli Stati Uniti a Singapore. Bellissimo esempio di riconoscenza. La seconda parola chiave della settimana è boomer. Boomer da valorizzare in azienda così come i loro figli. La Gen X che si avvia a entrare nel pieno della maturità lavorativa. A dirlo è la lettura del bollettino del sistema informativo Excelsior. Longevità dunque nelle aziende italiane. Longevità che va valorizzata come aggiornando in continuazione le competenze e tenendo d'esta la motivazione al lavoro. La terza e ultima parola chiave della settimana è cura. Per i 30 anni dello stabilimento di Novara i dipendenti, l'azienda e la stessa famiglia Barilla hanno donato un'ambulanza attrezzata per le emergenze neonatali alla Croce Rossa. Un regalo dunque per fare in modo che il gruppo interno di volontariato interna Barilla sia al servizio appunto della comunità in modo sempre più efficiente. Impegno sociale dunque per far crescere il territorio perché come diceva Adriano Olivetti per restare in Piemonte una fabbrica funziona in una società in un territorio che funziona. E allora buona lavoro a tutti e una cosa importante scrivetemi 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 le belle notizie sul lavoro tramite LinkedIn. Buon lavoro a tutti!